C'è voluto del tempo per renderlo possibile, del tempo per riscoprire un cereale antico e di alta qualità. Tempo per convertire tutte queste terre in biologico. C'è voluto del tempo per riunirsi in un unico consorzio, per garantire l'eccellenza di una produzione biologica e certificata. E' tempo di cura. E' tempo di bontà. E' tempo di biologico. E' tempo di Kamut.